Tommaso, quando avete protocollato la richiesta di convocazione di un consiglio monotematico sulla sanità e quali sono stati nel frattempo gli sviluppi? Dunque, noi l'abbiamo protocollata già lo scorso 24 maggio, c'erano 20 giorni per poterla convocare. Abbiamo concesso un po' di flessibilità alla Presidente del Consiglio perché chiedevamo anche la presenza del Presidente della Regione Acquaroli, dell'Assessore alla Sanità Saltamartini affinché appunto il Consiglio potesse fare le proprie proposte in presenza dei massimi esponenti regionali in fatto di sanità. Purtroppo questo Consiglio ancora non si è riuscito a convocare e la Regione, nel frattempo il Consiglio regionale attraverso le commissioni, sta andando avanti con l'esame del piano sociosanitario che è il più importante atto di pianificazione dei servizi sanitari nella nostra Regione e addirittura, da quello che sappiamo, già la prima settimana di agosto dovrebbe arrivare alla votazione finale. Quindi quello che noi chiediamo è che il Comune di Fano, terza città delle Marche, possa esprimersi, dare il proprio contributo, prima ovviamente di questa scadenza perché altrimenti la considereremo una grandissima presa in giro. Quali sono gli argomenti più importanti da trattare secondo voi durante il Consiglio? Le questioni aperte in tema di sanità sono tantissime, i cittadini fanesi lo sanno molto bene. Innanzitutto il futuro del nostro ospedale, del Santa Croce, in termini di reparti, di servizi e di eventuali spogliazioni che speriamo di poter scongiurare. Il futuro dell'ex ospedaletto, con l'istituzione del nuovo hospice per le cure palliative pediatriche. Il mantenimento a pieno regime della Guardia Medica, che ultimamente, come abbiamo visto, un po' boccheggia, nonostante la grande dedizione del personale sanitario e dei medici. La seconda ambulanza del 118 anche in orario notturno, che purtroppo nella nostra città manca, nonostante ci troviamo in estate, ovviamente l'afflusso di turisti aumenta la popolazione. Ovviamente, qualora il Consiglio Comunale non venisse convocato nei termini previsti da regolamento, comunque il prima possibile, noi saremo costretti a rivolgerci al prefetto, ma ci auguriamo di non dover ricorrere ovviamente a questa istituzione, ci auguriamo di poter tenere questa seduta il prima possibile, perché la sanità è uno dei temi assolutamente più sentiti dalla popolazione e crediamo che la terza città delle Marche abbia buon diritto, come già ha fatto Pesaro, di poter dire la propria davanti alle massime istituzioni regionali.